ma neanche il museo neanche il museo la voglio dire ma sono questi moto moderni che neanche ogni detto fai il sasso ma guarda di pedalti che ti contano i piedi tu hai due piedi un po' tu hai due piedi tu hai due piedi due piedi due piedi l'unico che fa un stile che mi segue è pericoloso vedere che lei intanto ti senti proprio che cazzo ah no va qua io pensavo che era lui io pensavo che era lui io nel torrente li vado semmo arrivato in su dove c'è il biogas c'è un sede da fattore io pensavo che era lui semmo si vuoi la Faustina io ho calapato il tuo mucco si si può andare a che buchi io ho detto non è lui questo è Faustina chi st время è che si è forte provozzarlo l'accento dici che sta andando dentro adesso è un tarifi si all'inizio si adesso sembra possa fermata Fai girare la ruota e poi ci spagli. Ma prima quando è finito? Se non era vuota. Mi sa che non sta entrando più. E per fuori sarà vuota. Cosa vuoi che tengas? Non ce l'hai una pompa? Vedi che esce tutto. Nessuno c'è una pompa, non ti puoi staccare tutto. Ho chiesto a te. Non c'è una tasca.